Dunque, io partirei da questo punto, dal fatto che soltanto 24 ore, 36 ore fa, lei aveva commentato in modo negativo sostanzialmente il nuovo decreto emanato da Palazzo Chigi per quanto riguarda le nuove restrizioni e poi c'è stato il picco improvviso ieri sera di oltre 100 contagi in Molise, mai così tanti dall'inizio della pandemia, che ha fatto schizzare anche tutti gli indici della nostra regione che erano sotto controllo in alto. Se la sente di ripetere questo concetto anche oggi? Certo che me la sento. Il picco non è che dipende dal fatto che i locali siano stati aperti fino alle 24, come è successo fino ad ora. Il picco dipende da altre motivazioni che sono allo studio della unità di crisi e della ASREM, la nostra azienda sanitaria locale. Il problema non sono i locali, il problema sono gli assembramenti, il problema sono le comunità, il problema forse sono anche quelle che le comunità scolastiche dove il virus più facilmente si può diffondere se non sono osservate in maniera pedissequa le regole di distanziamento della mascherina e di sanificare le mani. Quindi io sono sempre più convinto, stasera ne discuteremo anche in unità di crisi, che il problema non è la chiusura dei locali. Come dire, siccome non riusciamo ad arrestare i ladri, i rapinatori di banche, chiudiamo le banche. Ne sembra una cosa normale? Ecco, a proposito delle comunità, lei ha toccato subito il cuore del problema, cioè tra le altre comunità quella della scuola e di poco fa un'agenzia di una sua intenzione, di una sua dichiarazione di voler adottare la didattica a distanza almeno per quanto riguarda il triennio delle superiori. Ce lo conferma? Attenzione. Non posso farlo adesso direttamente, devo prima relazionarmi con la direzione scolastica regionale e io chiederò alla direzione scolastica regionale di adottare questa misura. Dopodiché alleggereremo in questa maniera l'affluenza sui trasporti e sono convinto che già questa prima misura ci farà stare più tranquilli. Nel corso del telegiornale daremo la notizia del potenziamento delle strutture ospedaliere, dei tre ospedali, in particolare Campobasso, Isernia e Termoli, dei posti letto in virtù della riorganizzazione della rete ospedaliera proprio per l'emergenza Covid. Lei si sente di poter dire che la situazione per quanto riguarda questo aspetto resta sotto controllo? Per quanto riguarda questo aspetto non solo resta sotto controllo, ma fra breve tutti i mass media riceveranno un mio comunicato in cui renderò noto che stiamo per terminare i lavori di ampliamento di malattie infettive al Cardarelli di Campobasso. Nel tracciare i contagi il Molise si conferma in qualche modo tra le regioni più avanti, rispetto alle altre, anche per un fatto evidentemente numerico. Però qui sono stati processati 50.000 tamponi, cioè tenuto conto delle persone che magari lo hanno ripetuto, è quasi un molisano su sei. Le sembra sufficiente? Guardi, noi siamo i secondi in Italia per numero di tamponi processati in relazione alla popolazione. È un risultato eccezionale, ma è un risultato che mi porta a dire che chiaramente più cerchi e più trovi positivi. Solo una piccola percentuale dei positivi vanno ospedalizzati. Probabilmente anche all'inizio della pandemia non tracciavamo come oggi, quindi avevamo probabilmente gli stessi numeri che abbiamo oggi. Chiaramente più tracci, più trovi. Come tutti gli altri presidenti di regione, anche io mi sono lamentato col governo del fatto che noi dovremmo tracciare soltanto quelli che hanno sintomi, quindi che hanno una sintomatologia da Covid, e i contatti stretti come i familiari. Stiamo, sta saltando il contact tracing per tracing, perché? Perché tracciamo oltremodo. Abbiamo visto, e lo vedremo tra poco, e mi affido alla sua sintesi per questa ultima domanda, una struttura pensile al cardarelli, una tettoia insomma, al cardarelli per aumentare anche la possibilità di processare tamponi. Il sindaco ha messo a disposizione, ha annunciato di voler mettere a disposizione anche un'area drive-in. Pensa di poterla utilizzare? Guarda, noi utilizzeremo tutto ciò che si renderà necessario, a giudizio anche della unità di crisi che abbiamo. Quindi adesso io non escludo nulla, ma non escludo nemmeno che non utilizzeremo il resto. Molto sintetico, la pensilina è la prima delle cinque che abbiamo in animo di istituire. Le aree drive-in, abbiamo visto a Roma che cosa è successo, 10 ore di fila, le aree drive-in devono essere utilizzate soltanto se utili. Le ricordo che per utilizzare un'area drive-in ci vuole anche il personale, quindi quanto personale ci vuole per le aree drive-in? E allora, voglio dire, questo lei mi dà lo spunto per farle davvero un'ultimissima domanda. Avete in mente come regione di bandire concorsi, assumere personale? Questo lo dobbiamo chiedere al commissario d'Acata, glielo chiederò stasera, ma penso che la risposta già la conosco. Mi risponderà sicuramente che i concorsi li bandiremo in relazione alle maglie che allargerà il governo centrale. Quindi con tutti i tempi lunghi della burocrazia che ne derivano? No, no, a tempo determinato li stiamo già effettuando. Tempi per bandire concorsi? Per bandire concorsi ci sono quelli degli anestesisti che sono già in corso, non lo abbiamo bloccato. E ce ne sono altri che abbiamo effettuato. Chiaramente io vorrei che fossero bandite ancora più concorsi. Le dico che per quanto riguarda la pandemia, le procedure selettive più che di concorsi sono molto veloci, molto rapide.